Il pannello di fatturazione elettronica ti consente di caricare fatture in formato XML create con un tuo gestionale e inviarle al sistema di interscambio. Per caricare uno o più file XML, scegli la voce Carica fattura in alto a sinistra, poi il pulsante Seleziona documenti. Potrai selezionare fatture in formato XML che hai salvato sul tuo PC. In alternativa, trascina uno o più file dal locale direttamente su pannello. Se uno o più dei dati contenuti nel file non corrispondono ai requisiti di Agenzia delle Entrate, il pannello te lo segnalerà e non potrai completare l'import. Cliccando su Dettagli errori potrai visionare la tipologia di errore e, in alcuni casi, un link diretto alle specifiche tecniche definite dall'Agenzia delle Entrate. Se scegli Cliccare qui, potrai aprire i dettagli tecnici degli errori su Nuova Finestra. Se il file risulterà corretto, invece, potrai inviare subito al sistema di interscambio le fatture o salvarle in bozza. Se scegli Salva in bozze, la fattura è salvata e potrai successivamente modificarla prima di inviarla al sistema di interscambio. Ricorda, per evitare errori nella numerazione e sulla data dei documenti, data e numero progressivo vengono assegnati automaticamente dal sistema alla riapertura della bozza. Potrai comunque sempre cambiarli. Clicca su Invia in corrispondenza di una singola fattura per inviare un solo documento alla volta. Se vuoi inviare più fatture contemporaneamente, selezionale, quindi scegli Azioni, Invia e clicca su Applica. Conferma spuntando Invia tutti per trasmettere i documenti ai tuoi clienti. Le fatture inviate sono visibili nell'omonima sezione del menu.